che raccolga i nominativi delle persone che intendono formulare domande, queste persone seguiranno le indicazioni di Claudio, si atterranno alle sue norme, do la parola a Claudio, a te Claudio. Buonasera a tutti, allora per cortesia dovreste scrivere come ha scritto Ilario, non necessariamente la domanda che la potete formulare a voce se la facciamo prima, quindi scrivere lì nella chat che si raggiunge cliccando su quella piccola icona a sinistra di quelle che avete sotto l'immagine e scrivete il vostro nome in modo tale che io poi via via vi do la parola e la professoressa potrà rispondere, grazie. Allora, ce ne sono già due, no Riccardo era solo un esempio, quindi vabbè cominciamo da Ilario, che Ilario prendi la per cortesia, prendi la parola, ci diamo tutti del tuo, non stiamo qua tanto a girare con lei che non serve, prendi per favore Ilario Botturi la parola e fai pure la domanda alla professoressa, poi chiudi il microfono successivamente, grazie. Buonasera professoressa, mi sente? Sì, sento benissimo. Perfetto, io sono un suo estimatore a tutti i suoi libri, li ho letti e con attenzione. Volevo chiedere solo velocemente un parere di Victor Suro, che ha scritto vari libri sulla Russia e sull'esercito russo, se lo conosce se lo conosce se lo ha letto e se lo ritiene attendibile su un suo parere. Per adesso mi riservo questa domanda, grazie. Sì, su, Rolf. Vogliamo farne, mi vedete? Vogliamo farne altre? Sì, ce n'è una di Camilla che può fare direttamente a voce, Camilla, grazie. Buonasera professoressa, non so se mi sente. Benissimo. Volevo chiederle per quale motivo lei si è occupata così intensamente di questo tema, se c'è un motivo familiare, qualche cosa che ha un retaggio personale, oppure se ci sono altre strade che l'hanno portata nella campagna di Russia. Grazie. Professoressa ce n'è un'altra, vi direi di fare solo questa e poi dopo. Sì, allora Federico Dalzotto, per cortesia, fai cura della domanda. Non sento. Federico, potresti fare la domanda per cortesia? Federico Dalzotto, io vedo il nome. Intanto posso rispondere a Camilla? Intanto rispondiamo a Ilario e a Camilla. Allora, Ilario chiedeva di Victor Suvorov, che poi Victor Suvorov, dove si ha uno pseudonimo, che ha militato nell'armatario, è giovane, non è che ha fatto la guerra, è un pubblicista, ho letto qualche suo libro, lui dà una versione un po' filosovietica, un po' classica, quella che vi dicevo prima che capita spesso di ascoltare nei convegni, fino a, l'ultima volta che sono stata in Russia è stata febbraio, prima che scoppiasse la pandemia, ed ero stata a novembre. A febbraio sono andata dieci giorni per lavorare in archivio, e a novembre invece sono stata quasi un mesetto per partecipare a una conferenza organizzata a Volgograd, dove sono stata almeno tre volte, quattro volte. E c'è una vulgata, una lettura, anche lo stesso che fa Suvorov, della Seconda Guerra Mondiale, molto vicina, molto governativa, molto ufficiale, che è quella alla quale vi ho accennato e di cui vi parlavo prima, cioè ovviamente dare tutta la responsabilità dell'attacco alla Germania, ai Hitler, per fare molto vittimismo, e le cifre certo danno ragione in questo senso, perché se noi diciamo che hanno avuto tra i 24 e i 27 milioni di vittime, alziamo le mani. Tuttavia va detta anche una cosa che non vi ho, ci sarebbero tante cose da dire, di cui non vi ho parlato prima, che i russi hanno avuto una perdita di 159 mila persone, uomini, soldati, uomini e donne, perché c'erano anche le partigiane, aviatrici, donne, ma soprattutto di soldati, fucilati dall'Encavedé, perché considerati disfattisti, sabotatori, disefattori, oppure perché si erano ritirati in un momento di attacco, di difficoltà. Pensate che queste perdite sono più della metà delle perdite subite dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti hanno subito 299 mila perdite, morti, e i russi 159 mila perdite dovute a fuoco amico, chiamiamolo così, a punizioni, che originavano poi dal famoso decreto di Stalin emanato nel 41, Nishagunasat, cioè neanche un passo indietro, il decreto numero 270 che condannava a morte chi avesse dimostrato una semplice indecisione, paura, chi fosse arretrato, c'aveva dietro schierati gli ufficiali dell'Encavedé che fucilavano i soldati che tornavano indietro. Quindi c'è una lettura, e Suvorov fa un po' questa cosa, di giustificazione, di vittimismo che si sente in questi convegni. Per cui quando si prova a dire, ma guardate che Stalin era alleato della Germania, e Stalin grazie al patto Molotov-Ribbentrop ha ottenuto Lituania, Lettonia, Estonia, Bessarabia, Bukovina, cioè ha allargato i suoi confini, cosa che poi gli si è rivoltata contro, perché allargare i confini ha significato perdere l'efficacia della linea Stalin, una linea difensiva, e inglobare nell'Unione Sovietica popolazioni nemiche, popolazioni ostili a Mosca. I lituani, l'ettoni e gli estoni mica volevano entrare in Unione Sovietica. Ci si sono ritrovati così, occupati da carri armati, per un accorto segreto fra Hitler e Stalin. Stalin mirava alla guerra, l'abbiamo detto prima, quindi ecco c'è questa lettura che è molto difficile, e certo è quella ufficiale, perché non è che c'è in Russia adesso una completa libertà, c'è un'immagine che fa comodo presentare. E poi l'idea, ecco la domanda che mi faceva Camilla, sul motivo. Io ho avuto un nonno che ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale sull'Adamello, mio nonno era un alpino, però niente a che vedere con la Russia, cioè mio padre non ha combattuto in Russia, è stato un interesse che è partito dal fatto che io ho una prima laurea in lingua e letteratura russa e poi ho deciso di iscrivermi e di fare un percorso storico. Il russo l'ho scelto, non ho mamma russo, papà russo, per poter leggere in russo, in lingua originale, la letteratura che mi piace tanto, perché mi piace molto la lingua, la lingua russa, così come è articolata. Poi ho deciso di fare un percorso storico e è stato un momento fortunatissimo perché è stato il momento in cui la Russia ha aperto gli archivi. Nei primi anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, la fine della Guerra Fredda, per dimostrare una nuova linea, una nuova via, la Russia, che vi ricordate all'inizio si chiamava la comunità degli stati indipendenti, che man mano poi ha perso parte di quelli che erano gli ex stati, le ex repubbliche sovietiche, ha deciso di consentire agli studiosi stranieri di entrare negli archivi. Ora badate bene, non è che ci abbiano fatto vedere tutto, una piccolissima parte che hanno aperto, ma è stato un mondo. La documentazione sulla propaganda, di cui vi parlavo, ma su tante cose, sulla mortalità, viene proprio dall'archivio dell'Encavedé, dall'archivio del Comintern, che è all'interno del RGASPI, l'archivio di storia sociopolitica, l'archivio russo-statale, ma l'archivio fondamentale su cui ho potuto lavorare è quello dell'Encavedé. Archivi che ora vengono chiusi, aperti, a seconda delle circostanze. Diciamo che l'atteggiamento della politica di Putin è un po' altalenante, dipende anche dalla politica estera. Quindi è stato un interesse derivato dalla lingua. Poi ho avuto questa occasione di trovarmi, nel momento giusto, sapevo la lingua giusta, per lavorare negli archivi. Sono allieva di Elena Garossi, una grande storica, grande ufficiale della Repubblica, appunto con cui ho scritto il libro Una guerra a parte. Mi sono laureata con lei, ha dottorata con lei. Ma la cosa interessante e particolare è che lei era sposata con Viktor Zaslowski, un grande studioso russo, che viveva ai tempi della guerra a Leningrado e dovette scappare, aveva sette anni con la zia, prima che Leningrado finisse chiusa e assediata. E lui ha vissuto in Italia, ha insegnato alla Louis, un grande sociologo, un grande studioso, che poi mi ha dato dei consigli. Quindi è stata una serie di fattori felici, favorevoli, che mi hanno mandato verso quella strada, come se fosse segnata, insomma, non lo so. Allora, grazie professoressa. Ci sono altre domande che arrivano da Riccardo Bulgarelli, Olga Davini e Giuliano Colaianni. Per cui partiamo da Riccardo, velocemente. Allora, io ne ho alcune, presento questa, poi se posso faccio altre. Dunque, io mi riferisco ai numeri che in qualche modo sono stati ricavati dall'Unione Sovietica rispetto ai nostri dispersi, che noi non sappiamo se caduti in combattimento durante le marci del Davai, o presi i prigionieri nei primi mesi quando non furono censiti, o quei 25-30 mila, mi pare, che tu hai identificato come numero di nomi noti negli alenchi dei caduti. La mia domanda è questa. Visto l'assoluto caos che ci pare cogliere dalle tue descrizioni e anche da quanto in altri testi abbiamo libri che caratterizzava l'Unione Sovietica. Come è possibile considerare attendibili i dati che loro ci forniscono? Brevissimamente, quando si leggono loro relazioni relative a battaglie, citano un numero spropositato di prigionieri, anche etichettandoli italiani, che poi non tornerebbero nemmeno nei nostri piccoli contesti. E dunque, su dimensioni ancora più grosse, è possibile considerare i loro dati attendibili o ci sono molte perplessità? Grazie. Allora, tu hai fatto una domanda interessantissima, perché nella fase iniziale, come dicevo, c'è caos. Però dovete sapere che l'Unione Sovietica aveva una delle burocrazie più organizzate, tipica un po' del comunismo, del partito, del controllo, della forma di controllo. Quindi dopo si vanno organizzando. Tant'è che c'è questa anchietta, cioè questo modulo di informativo, che vedete, che si va poi perfezionando nei mesi. Quindi lì immaginate, c'è un impiegato, un traduttore, c'è uno che scrive le risposte del prigioniero, che gli chiedono patronimico, sei scritto a un partito, di che religione sei, anzianità di servizio, arma, grado, eccetera, eccetera. Per arrivare anche posizione sociale e patrimoniale del prigioniero, posizione sociale del padre. Cioè qui la burocrazia che raggiunge. E questi prigionieri vanno classificati in faldoni, faldoni, li traduco così, che molti oggi sono conservati dall'associazione Memorial, Mascoschi e Memorial, Memorial Maschvi, i memoriali di Mosca, che hanno i fascicoli anche degli internati sovietici, ma anche dei prigionieri, quindi degli stranieri, che avevano attaccato l'Unione Sovietica. Cioè materiale che veniva raccolto, anche cartelle cliniche. Nel libro riporto la cartella clinica, poi guarda caso, di un abruzzese, di un ragazzo di un paese vicino al mio, qui in montagna sempre, caduto prigioniero, poi che morirà. C'è tutta una cartella clinica lunghissima, tantissimi fogli. Quindi se c'è una prima situazione di caos iniziale dovuta alla necessità, innanzitutto al numero enorme di prigionieri, alla necessità di spostarli. E il problema principale in quel momento, non sono i prigionieri, è continuare l'offensiva. Quindi affidano questi prigionieri nelle marce del Davai a una scorta di giovanetti, di giovani soldati, e li mandano verso i campi di smestamento. I numeri. Gli elenchi che hanno esaminato Vicentini e resta per l'UNIR, che poi sono stati pubblicati dall'UNIR insieme al Ministero della Difesa, honor caduti, riportano circa 70 mila persone, censite, come ti dicevo, anche se fra questi numeri almeno 2 mila sono ripetizioni. Il problema che avevano i russi era a volte capire il cognome, per cui alcuni non sono riusciti a censire, oppure sono persone inesistenti, perché non tanto scrivere Mario, ma già bulgarelli, giusti, sono già cognomi che un po', immaginiamo un soldato che poteva essere non tanto colto, a dover trascrivere in russo un nome italiano. E ci sono dei cognomi difficili, abbiamo, non so, dell'olio, dall'olio, insomma, con dei suoni che in russo nemmeno esistono. Quindi, questo era una situazione, era il problema iniziale. Poi però noi abbiamo una certezza, questi dati che ci hanno mandato, quelli che sono rimpatriati, che sono i sopravvissuti, ai quali loro uniscono, rimandano insieme a quelli dell'ARMIR, gli ex internati dei tedeschi, che, non so, qualcuno probabilmente conosce, ho scritto anche un libro su di loro, pubblicato da Rodorigo, con dei documenti bielorussi inediti, erano gli italiani, che al momento dell'armistizio erano nei Balcani, in Grecia, in Jugoslavia o in Albania, erano stati catturati dai tedeschi, perché erano diventati nemici, gli italiani si erano arresi, e invece di essere liberati, vengono deportati nel Reich. nei territori del Reich, a lavorare per la Germania. Quando l'Armata Rossa avanza verso Occidente, man mano che avanza, libera, oltre che aver liberato, aperto Auschwitz, per cui noi ricordiamo il giorno della memoria, quel gennaio, per l'apertura di Auschwitz, scopre anche questi campi, dove ci sono dei soldati, vestiti con la divisa italiana. e che fanno? Una parte verrà liberata, il grosso verrà liberato, ma migliaia vengono presi, prigionieri dai sovietici, e deportati in Unione Sovietica. Quindi una doppia prigionia, terribile, crudele, di questi poverini, che vedono arrivare i russi, e li salutano come liberatori, e i russi invece, li privano di tutto, di quello che gli era rimasto, li mettono in fila, e li fanno marciare verso est. Questo è veramente il paradosso della storia, l'assurdo di questi poveri Imi, internati militari italiani, così li aveva chiamati Hitler, che diventano prigionieri dei sovietici. Come ce ne siamo accorti? Che negli elenchi che hanno mandato i russi, ci sono dei nomi di soldati, che non erano della Torino, ma erano della Forlì, dell'Acqui, della Regina, della Taurinense, per dire, della Venezia, cioè di divisioni, che erano stanziate, non in Russia, ma nei Balcani, e quindi si è dovuto lavorare, per capire chi fossero. Questi erano i rimpatriati, i sopravvissuti, da questa anabasi, un'altra anabasi, erano 11.033, ma noi abbiamo l'elenco dei morti, che sono stati 1290, mi pare di ricordare, quindi almeno oltre 12.000, quasi 13.000 sono stati deportati, guardate che sono tanti, 13.000 italiani deportati senza motivo, in Unione Sovietica, quando l'Italia non era più nemica dell'Unione Sovietica, quindi diciamo un crimine contro l'umanità, un crimine assurdo, cioè tenerli come prigionieri, quando non erano prigionieri di guerra, perché tutto questo è accaduto dopo l'8 settembre del 43, quando l'Italia non era più nemica degli alleati, quindi nemmeno nemica dell'Unione Sovietica. Però essendo italiani, vengono considerati nemici. E comunque sono funzionali al discorso di Stalin, i prigionieri sono tutti uguali, e servono per lavorare, ma soprattutto, e questa è una cosa di cui dobbiamo tenere presente sempre, sono merce di scambio. Questo è il pallino di Stalin. Tenerne conviene come i criminali di guerra, i presunti criminali di guerra, come Don Brevi, Reginato, eccetera, che vengono trattenuti fino dopo la morte di Stalin, accusati di crimini che spesso non ci sono stati, ma servono come arma di ricatto. I sovietici arriveranno a dire all'Italia che noi non veriviamo i prigionieri se voi non ci riconsegnate tutti i cittadini russi e sovietici che sono in Italia. Questo è, i prigionieri diventano merce di scambio, moneta. So se ho soddisfatto la tua domanda. Sì, sì, sì. Comunque la questione ai numeri. Prego. Bene, direi che almeno un paio ci stanno ancora. Allora, Olga, se può porre la sua domanda. Grazie. Sì, ecco, grazie. Buonasera, professoressa. Buonasera. Allora, la mia domanda è il lato partenza, ovvero c'erano dei criteri di selezione, diciamo, dei militari che dovevano, che sono stati portati poi a combattere in Russia. Perché le spiego, mio padre, classe 1922, ha fatto la guerra, ha fatto la seconda guerra portale, e richiesto di andare volontario, voleva andare volontario in Russia. Poi, ex post, per fortuna, è stato mandato a combattere sul fronte africano. Ecco, siccome poi io, mio padre l'ho perso da piccola, questo è un vuoto che ho, e mi domando sempre come mai non è stato preso per andare in Russia, se c'erano dei… No, dunque, lei mi fa una domanda interessante, stavo cercando nel libro dove citavo, perché mi ricordavo il nome di un centurione della milizia, un altro di Roma, dell'aglio Giovanni, che poi ha scritto un libro di memorie, un altro guadagni, altro della milizia, allora, suo padre non penso che fosse della milizia, molti della milizia si fanno volontari, e ci sono molti volontari per la Russia, questo va detto, bisogna sfatare anche il mito contrario per dire che tutti, no, volevano partire per la Russia, perché soprattutto per le camicie nere, questa era una guerra ideologica, cioè la guerra in Russia è proprio come ha scritto anche De Felice, più va avanti la seconda guerra mondiale e più diventa guerra ideologica e soprattutto lo diventa in Russia, per quello che dicevamo all'inizio, uno dei motivi che Mussolini, che spinse Mussolini ad andare in Russia. Il criterio era, innanzitutto come dicevo prima, il Xira era il massimo che l'Italia potesse dare, ma ben organizzato, la Torino che ha avuto delle perdite ingenti, la Torino ha perso quasi tutta nella ritirata, ma anche nei combattimenti, decimata, di circa 11.000, 1.250 sono tornati la Torino, una divisione decimata, non solo gli alpini, voglio dire, hanno sofferto, anche altre divisioni di fanteria. e il criterio è che con il Xira si cerca di mandare il meglio. Ci sono volontari, ma alcuni volontari non vengono accettati. Per esempio, nella storia di questo dell'aglio, di cui dicevo, che scrive questo libro di memoria, lui a un certo punto dice che un suo amico, insieme cercano di fare domanda, e addirittura lui si fa raccomandare per andare in Russia, perché andare in Russia aveva un doppio scopo, se vogliamo, da un punto di vista ideologico era potersi affermare, insomma, e anche partecipare a una guerra che aveva un senso politico, ma poi si sperava di avere un riconoscimento in futuro, cioè la guerra era vista anche come un servizio per avere un lavoro più facilmente, per dire, io sono stato in Russia, ho combattuto lì, sono andato addirittura volontario, e quindi serviva anche ad uno scopo pratico, se vogliamo, che poi, cosa che non succederà, perché questi poveretti poi dovranno organizzarsi. A volte la scelta era pure casuale, cioè si mandava in Africa, noi avevamo bisogno di più di truppa in Africa, soprattutto, non in Russia, per quei motivi che vi dicevo prima. Quindi alcuni, ecco, per esempio, questo dell'aglio racconta che lui viene preso, e l'amico no, e questo amico piange disperatamente perché non è stato scelto per la Russia. Quindi, andare in Russia aveva, era un compimento, insomma, di un'idea, soprattutto per le mie camicie nere. Per chi non era camicie nera, e c'è questo Luciano Vigo che vi citavo, che ha scritto questa, vi leggevo prima questa cosa, bisogna andare con la divisa azzura perché dobbiamo fare la sfilata, eccetera, poi farà il giornalista, lui parte volontario, non è un fascista, non è una camicia nera, e poi lì si rendono conto di aver sbagliato. E molti volontari, ecco perché c'è la conversione di fascisti, si ritrovano delusi, delusi dal fascismo, perché il fascismo ha sottovalutato la guerra, quindi li ha mandati allo sbaraglio, perché questo è stato. Quindi, c'è una selezione, non è che è una selezione per bravura, perché altro, ma si fanno dei conti, semplicemente, per vedere dove serve più, militari, si mandano, e alcuni, ecco questo caso dell'aglio, lui non spiega il motivo, certo è che lui si farà comandare per andare in Russia, quindi andare in Russia era una cosa che poteva servire, insomma, di prestigio, tra virgolette. Lo stesso motivo per cui fanno Gariboldi comandante dell'Armir, se ci riflettiamo un attimo, Prestigio, il Xir era andato bene, la guerra si vince subito contro questi ignoranti russi, no, Barbari, invece non si è a conto varie complicazioni, insomma, che ci saranno, non so se è chiaro, e io la vedo così, non c'è, certo era, la Celere era una divisione d'eccellenza, cioè non mandano, anche gli Alpini che mandano, la Iulia, era una grande divisione, poi verranno dislocate, poi l'ottava armata verrà dislocata sul confine orientale, vicino alla seconda armata. che stava in Slovenia, perché stava in Jugoslavia. Grazie. Prego. Professoressa, quanto tempo ancora lei? Ma ditemi voi, sono le otto. E appunto, dai facciamo, allora, c'è Giuliano che è in attesa da parecchio, facciamo la sua domanda e poi decidiamo da farsi. Giuliano Colaiani. Buonasera, buonasera professoressa, buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori. mi sto salutando Kondrashev, Alexander, Alexander Kondrashev, Kondrashev, non lo so, Kondrashev, piacere, va bene, sto rispondendo. Ok, grazie. Volevo, in realtà, due quesiti sul tempo, intanto gli faccio il primo. mi volevo riallacciare all'accordo del 39 tra Ribbentrop e Moldov e mi era venuta l'idea che quell'accordo in realtà fosse, avessero ben chiaro che prima o poi si sarebbero scontrati e che era solo un modo per prendere tempo e che la stessa spartizione della Germania, non se lo dicevano, ma nello stesso tempo era di allontanarsi dai loro confini per poi trovare un punto di scontro da qualche altra parte. Forse, penso che Stalin voleva, si aspettava non prima del 42 che accadesse quello che è accaduto, non so, volevo un'idea sua su questo. Il secondo punto riguardava il numero dei prigionieri, non mi è chiaro tra le tante cose, se 70 mila è il numero che... Dove sono finiti? Esatto. Gli altri? Togliendo 10 mila e più che sono quelli che non centravano nulla col fronte russo, siamo più o meno a 60 mila, a parte i nominativi diciamo più o meno descrivibili. Ne mancano più di 30 mila. Dunque, noi abbiamo, secondo i calcoli che poi fece anche Vicentini, perché questa è una domanda che ho fatto pure io, ma che fine hanno fatto, 20 mila, secondo lui, almeno 20 mila sono morti nelle marce del Davai, cioè sono morti prima di arrivare nei campi e possiamo dire non solo nelle marce, ma nei treni, nei vagoni, treni, chiamiamolo così, erano dei vagoni merci dove venivano stipati e dove si diffonde la dissenteria. Molti muoiono proprio in questi vagoni e i racconti sono terribili dei trasporti sui treni, non meno tragici di quelli a piedi. Sono scostretti a stare in piedi per mancanza di spazio che si farà, poi sarà il tempo, ma poi sarà la dissenteria a incaricarsi di fare spazio nei vagoni e loro cercano di tenere poi i cadaveri per prendere la razione di pane perché questi viaggi non è che erano viaggetti che duravano un giorno, due giorni, li caricavano in una stazione e poi incominciavano quel viaggio verso non si sa dove, non dicevano niente ovviamente le guardie, ma i treni io l'ho sperimentato perché ho fatto un viaggio in treno fino a Varonezh dove c'erano gli italiani vicino a Rassosch a un certo punto questi treni si fermano e non si sa perché cioè si fermano stanno fermi un bel po' quindi non è idea immaginiamo all'epoca quindi avevano bisogno di vagoni per trasportare armi eccetera e quindi ci mettono anche quest'altra merce che erano i prigionieri quindi viaggi che duravano anche 40 giorni immaginiamo anche le lontananze che ci sono e quindi il numero dei morti cresceva spesso senza acqua è un numero secondo me plausibile di 20.000 morti nei trasferimenti poi abbiamo i morti durante le battaglie certo la maggior parte dei morti alla fine non ci fu per la guerra ma ci fu proprio per la prigionia e per questo criterio di trasporto o di trasferimento dei prigionieri quindi se noi guardiamo gli elenchi come mi pare che siano i censiti 67.000 censiti quindi diciamo arriviamo nell'ordine mettendo quelli che non hanno scritto non hanno censito e va anche detto e questo mi ricollega alla domanda di Riccardo che e questa è una cosa un po' particolare i russi hanno un criterio avevano che si chiama la norma norma in russo significa la norma è quella che noi chiamiamo anche cottimo nel lavoro la norma viene applicata in tutto veniva applicata cioè tu dovevi fare una norma non so un tot di grano raccolto al giorno un tot di legna tagliata al giorno la squadra dei prigionieri se la squadra non raggiungeva la norma era punita con una riduzione del vitto se la squadra superava la norma difficilissimo perché in quelle condizioni di vita la forza non c'era non c'erano nemmeno gli strumenti adatti però se avessero superato la norma veniva dato un premio di cibo per esempio alla squadra a tutti i componenti della squadra che lavorava il principio della norma viene utilizzato anche per i morti paradossalmente in una prima gradazione cioè il prigioniero deve durare almeno tre mesi per rendere quello che paga l'encavedere per il prigioniero questo criterio è applicato anche ai prigionieri politici di quello che noi chiamiamo gulag ma il gulag non è un luogo il gulag è un sistema è un ente di gestione dei lager e quindi da una parte c'è questo livello della norma cioè il prigioniero mi deve durare un po' se no ci vado a perdere questo è il discorso l'altro discorso della norma riguardava appunto il numero dei morti che un campo non si poteva permettere cioè ci sono dei campi e questo è dimostrato come il campo di Crenovaea che non comunicava i dati veri oppure i morti di un giorno li spostava al giorno successivo oppure non li dichiarava perché questo avrebbe comportato inficiato tutta la gestione del campo e comportato le conseguenze per i comandanti c'è stato il caso di un comandante che è stato arrestato e pare che sia stato fucilato proprio per il cattivo funzionamento del campo quindi arrivare a punire il comandante che è un militare è una cosa e questo soprattutto capito a questo campo disgraziato di Crenovaea che era come Tamboff cioè dei campi dove ci fu un'altissima mortalità e quindi in sostanza il problema dei dati è collegato anche a queste questioni quindi si ricollega al discorso che faceva prima Riccardo ma allora funzionava o non funzionava cioè all'inizio non funziona c'è questo questa falsificazione dei dati fatta da alcuni comandanti e uno in particolare viene scoperto questo di Crenovae è condannato però c'erano altri campi che falsavano i dati perché nel momento in cui non scrivono Mario Rossi è morto oggi è sepolto perché addirittura anche i luoghi di sepoltura ci sono ma Mario Rossi della divisione Giulia è morto che ne so Tenente è morto qui e se non lo scrivono noi questi dati non ce li abbiamo non ce li avremo mai come non avremo mai gli elenchi che raccoglievano alcuni ufficiali o soprattutto i cappellani per cui i sovietici ogni tanto facevano delle perquisizioni e l'obiettivo di queste perquisizioni erano gli elenchi dei morti per evitare che si diffondessero che trapelassero queste notizie solo più avanti quando si sistemano come vi dicevo prima Radio Mosca trasmette gli annunci dei prigionieri che erano delle comunicazioni in cui Mario Rossi di che ne so ecco dell'Aquila saluta evidentemente la mamma e sta bene allora questo serviva per dire che era vivo e in questo senso nel libro nella seconda edizione dei prigionieri io ho potuto raccogliere non stata forse la prima nell'archivio segreto vaticano gli elenchi che in vaticano scrivevano intercettando Radio Mosca cioè l'archivio segreto vaticano che è stato aperto da poco ha anche molto materiale dell'epoca contemporanea in generale quello che hanno lì è dell'epoca moderna storia moderna e medievale invece hanno questo archivio segreto che raccoglie il periodo di Pio XII gli scambi ma anche relazioni di cappellani che ritornano dalla prigionia oppure ecco elenchi di prigionieri che ogni giorno da Radio Mosca comunicavano di essere vivi in qualche modo salutando c'erano degli elenchi immaginiamo tutti elenchi di persone italiane salutano le loro famiglie era l'unico modo non avendo firmato la convenzione di Ginevra l'URSS di sapere se erano vivi o erano morti perché l'URSS non manda mai fino agli anni 90 adesso fino ad ora la Russia ma l'URSS non ha mai mandato elenchi di prigionieri a tutti gli stanno solo all'Italia agli stati nemici alle altre potenze mai agli stati belligeranti perché non riconosceva la convenzione di Ginevra e uno degli articoli della convenzione stabilisce questo come il diritto alla corrispondenza il diritto di tenerli in vita in maniera decorosa e quindi la Russia non se lo poteva permettere questo e perciò gli elenchi immaginiamo quelle famiglie si può immaginare la tragedia che alimentava quelle leggende di cui parlavamo prima di famiglie che non sanno sono vivi o morti rimaneva tutto in sospeso e quindi il discorso viene utilizzato nella propaganda e i familiari a lungo non hanno saputo finché non hanno vivi immaginiamo il film il letto a tre piazze quello con Totò mi pare che sia di Steno il letto a tre piazze ve lo consiglio un libro bellissimo dove Totò ritorna dalla Russia anni dopo e trova la moglie sposata con mi pare Peppino De Filippo adesso non mi ricordo comunque è un esempio classico di questa storia di queste vicende addirittura poi le vedove non riuscivano nemmeno a dichiarare non potevano dichiarare di essere vedove perché la morte del congiunto non era accertata e quegli elenchi sarebbero serviti anche a questo per un fatto diciamo pratico e utile quindi come vedete avete a che fare con le unioni sovieti ma ancora adesso lavorare negli archivi non è così facile cioè è una cosa veramente un'impresa io recentemente sono stato in uno degli archivi più difficili pensavo che fosse quello dell'Encavedé invece c'è questo qui della politica estera cioè l'archivio del ministero degli esteri russo dove si possono fare 20 fotocopie solo quindi tu devi scrivere col computer dal russo i documenti non c'è altro modo per avere i documenti questo ovviamente rende il lavoro ad uno studioso difficilissimo quindi le prenotazioni le cose cose che ti danno che non ti danno quindi questo immaginiamolo negli anni 30-40 con Stalin ecco quindi è un'impresa quasi impossibile avere delle cifre precise perché ci manca la registrazione dei morti che hanno potuto fare alcuni su foglietti di emergenza ma poi averci qualcosa per scrivere se cadeva un commilitone lì in mezzo alla neve ricordarlo era pure difficile uno cercava di scriverlo ma queste scritture queste prove diciamo non sono arrivate quindi questo ha complicato la cosa scusami prego io penso che si possa prendere atto che siamo ormai arrivati lunghi tareremo meglio la prossima esperienza senz'altro mi sembra che ci sia una discreta partecipazione soddisfazione per cui sarei a chiederti se ci dai ancora una tua disponibilità nel tempo che sarà possibile organizzare perché le domande sarebbero ancora tante anch'io ne avrei e dunque mi piacerebbe riuscire a porne quindi anche consultandomi con quelli con cui ho organizzato questa cosa direi che possiamo chiuderla qui ti ringrazio moltissimo prego è stato un piacere io ringrazio voi tantissimo credo molto guarda eravamo 36 siamo rimasti in 30 per cui direi che l'interesse è manifestato da questo quindi veramente grazie ovviamente faremo riflessione di questa esperienza conto su è un piacere perché il nostro compito è divulgare il nostro compito non è solo di scrivere scrivere libri fare ricerca negli archivi come i topi di biblioteca ma è divulgare parlare con gli studenti ma anche col pubblico più ampio cioè altrimenti la nostra ricerca è sterile se non va da qualche parte e noi saremmo ben contenti se riusciamo a mantenere un gruppo di potervi parlare per cui grazie infinite grazie ancora Maria Teresa grazie a Camilla che vi parla del prossimo appuntamento perché è un po' di scaletta ormai ce l'abbiamo e confido appunto nella tua disponibilità per una prossima occasione speriamo che ci sia anche la possibilità di vederci di viso di vederci di persona e che questa storia finisca presto ancora di più e tanti auguri tra l'altro grazie grazie anche a voi a Camilla